Essere in un teatro, cioè essere in un luogo di cultura che ha visto per tanti anni l'espressione viva della normalità e della bellezza degli aretini, oggi qui io vorrei che iniziasse la parola fine per il Covid. I 10 box vaccinali sono già stati allestiti all'interno del teatro Tenda di Arezzo e domani prenderanno così avvio le vaccinazioni anti-Covid. Si parte domani, si parte domani e fra domani e domani l'altro supereremo le 1000 vaccinazioni e in tutta la città di Arezzo 1000 vaccinazioni qui e arriveremo a superare anche con i domiciliari le 2000 vaccinazioni, quindi a un fine settimana veramente di svolta nella campagna vaccinale. Il centro di via Ale Amendola andrà da affiancare l'altro ABA vaccinale, quello del centro affari e convegni di via Spallanzani che resterà operativo per le vaccinazioni delle categorie anagrafiche. Qui si vaccineranno le persone estremamente vulnerabili che sono quel gruppo di persone che durante la vaccinazione avranno anche la presenza dello specialista di riferimento. Il programma è quello di tenere aperte le sedi il più possibile, è quello di tenere una campagna di vaccinazione su varie persone, verranno aperti anche alcuni filoni per gli ultraottantenni che per qualche motivo non abbiano potuto prenotarsi dai propri medici di famiglia, mantenere anche la domiciliarità, quindi calcolare anche le vaccinazioni delle persone fragili o delle persone assistite dai medici di famiglia, gli ultraottantenni a domicilio e andare a cercare le persone nel loro luogo, portarle nel luogo più idoneo al loro bisogno per proteggerle dal Covid. Da adesso il programma di vaccinazione di massa subirà un ulteriore potenziamento organizzativo grazie all'accordo con l'amministrazione comunale Aretina che ha concesso lo spazio del teatro tenda incomodato gratuito. L'unica cosa che possiamo fare in questa fase è quella di dare più spazi possibili perché si possa aumentare l'opportunità di vaccinazione, questo è l'unico ruolo che possiamo giocare, quindi lo giochiamo tutto, lo giochiamo molto volentieri, l'ho detto prima, lo ridico ora, lo ridirò sempre, tutti gli spazi necessari sono già sostanzialmente a disposizione, poi ovviamente andranno predisposti, andranno allestiti, ma in questo momento per mettere una parola fine a questa situazione così difficile per tutti è una vaccinazione di massa, una vaccinazione diffusa, una vaccinazione potente, tutto ciò che permette che questo possa avvenire per noi è prioritario e quindi gli spazi sono quello che possiamo fare e lo facciamo.